La nostra perplessità nasce dall'idea che la valorizzazione di un'area nevralgica come quella del castello e delle litoranie debba arrivare con interventi complessivi. Serve una riflessione sulla situazione urbanistica della città. Con i colleghi consiglieri comunali di maggioranza Stella Miele e Luigi Antonucci è stato tra i primi a invitare alla riflessione sulla costruzione di un supermercato a ridosso del fossato del castello di Barletta. Ora Riccardo Memeo puntualizza la sua posizione anche alla luce della relazione tecnica del dirigente del settore attività produttive Donato Lamacchia, nella quale si chiarisce che l'intervento non determina alcuna trasformazione del territorio. Il nostro stupore nasce dal fatto che quando si parla di valorizzare un'intiraria è chiaro che bisogna pensarci in maniera complessiva, in maniera globale e non con interventi spot che magari sono scollegati l'uno dall'altro. Quindi noi quello che chiedevamo e lo stupore a cui ci siamo trovati di fronte riguarda appunto l'idea che noi come amministrazione, noi siamo in maggioranza, quindi noi come amministrazione abbiamo di quell'area e di tante altre aree ed è un'idea di cui dovremmo come dire accendere i riflettori soprattutto parlando più complessivamente per esempio del piano regolatore che ancora purtroppo manca perché poi è chiaro che l'urbanistica si fa con gli strumenti normativi e lo strumento principe e il pug, cosa che attualmente purtroppo è ancora ben lontano dall'essere realizzato. Per Memeo la riflessione deve spostarsi sull'urbanistica generale e dalle polemiche di chi si chiedeva come mai queste perplessità arrivassero dalla maggioranza risponde così. Ma noi non pretendiamo di essere messi al corrente o comunque permesso di costruire che viene chiaramente portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Noi però vorremmo che ci si confrontasse seriamente come maggioranza ma non solo come maggioranza come consiglio comunale, come politica, come città in generale sull'idea urbanistica del futuro della nostra realtà, del nostro territorio, della nostra città e questo è quello su cui noi abbiamo voluto accendere i riflettori. Serve dunque un confronto sulla città, la vicenda del supermercato può essere l'occasione per avviarlo. Ecco evidentemente c'è bisogno di aprire un dibattito serio su quella zona in modo particolare perché è su quella che abbiamo aperto diciamo la riflessione ma io direi più in generale su che idea di città noi abbiamo dal punto di vista urbanistico e territoriale.